Semplificare le procedure per convincere gli indecisi. Così nasce la proposta di Regione Liguria di prevedere i momenti per le vaccinazioni anti-Covid in cui è sufficiente presentarsi agli ambulatori senza bisogno di alcuna prenotazione. Sono i cosiddetti open day e open night vaccinali che questa settimana saranno riproposti nelle serate di mercoledì, giovedì e venerdì in tutte e cinque le asle Liguri. Nel Tiguglio l'auditorium San Francesco di Chiavari è aperto dalle 19 alle 22. La raccomandazione è quella di non accalcarsi nel primo di mercoledì perché avremo 500 vaccini a disposizione sia mercoledì ma altrettanti giovedì e altrettanti ancora venerdì. Quindi non c'è fretta perché in questi open night di mercoledì, giovedì e venerdì avremo la possibilità anche di anticipare le seconde dosi. Può presentarsi quindi anche chi ha già fatto la prima dose e vuole anticipare il richiamo. Per chi ha fatto Pfizer devono essere trascorsi almeno 21 giorni, 28 giorni invece per chi ha ricevuto Moderna, 8 settimane per chi ha meno di 60 anni ed è stato vaccinato con AstraZeneca. Nell'ultimo open night giovedì 15 luglio sono state somministrate oltre 2000 dosi in tutta la regione, 184 all'auditorium San Francesco. Una modalità che il direttore generale dell'ASL4 Paolo Petralia definisce una soluzione vincente. Con questa soluzione una modalità di maggior avvicinamento delle fasce adulte, in questo caso parliamo soprattutto delle fasce che vanno tra i 20 e i 50 anni, l'età e in questo senso abbiamo avuto un buon successo ancora di più negli open night, nell'ultimo open night che ha raddoppiato praticamente quello che era stata la risposta dei precedenti.